Ciao, sono Gian Paolo Pritti, responsabile della parte Audio, Video e Congress di Intermarca Sistemi. Quello che presentiamo oggi è la gamma Televic, nostra nuova azienda in cui abbiamo preso la distribuzione a partire dal mese di aprile. Quello che stiamo vedendo adesso è il modello top di Televic, la serie Unicos Multimediare, una postazione delegata che ci permette di accedere a documenti usando un pannello touch 7.11. Le versioni altre che abbiamo qui esposte sono una versione base, una versione di cerno per sistemi medio-piccoli, fino a 50 delegati con possibilità anche di registrare la conferenza. La parte qui centrale è invece la parte wireless in cui si può avere un sistema senza fili, molto semplice da programmare, da usare in spazi ampi, usando la tecnologia Wi-Fi e usando anche un access point che mi permette di non avere per forza un'infrastruttura in regina. Ultimo, ma non ultimo, l'accoppiamento dei prodotti Televic con le meccaniche elettroniche di un'azienda specializzata nelle meccanizzazioni ad alto design che è l'Arto Rolm spagnolo. Prodotti meccanizzati che permettono di avere un sistema a scomparsa delle unità di legato sia in associazione con un display o con la sola parte microfondica. Per tutte le altre cose, andate sul sito o intermar.it o Televic, dovrete tutte le informazioni di programma. Grazie.